Piton Bar, secondo voi era meglio prendere Vlaovic a 90 o Scamacca a 40? Bella questa domanda. Io conosco la risposta di Matteo. Teone, cosa vuoi dire? Non lo so, dai. Allora, per me sono strapagati tutti e due. Lo dico subito. Nessuno vale quei due soldi, però se devo strapagare uno, devo strapagare l'altro, strapago quello più forte. E quindi Vlaovic. Ecco, però secondo me sono entrambe delle valutazioni esagerate. Ecco, sicuramente anche perché la grande differenza è che poi a Scamacca magari dai 3 milioni di ingaggio, a Vlaovic viene dai 8. Ecco, quindi è tutto il pacchetto che è sovradimensionato. Però che ci sia differenza oggi tra Vlaovic e Scamacca mi sembra abbastanza evidente. Io ho 30 Scamacca, 70 Vlaovic, pur ritenendo Vlaovic un gradino molto più sopra. Quindi non parlo dei gradini quelli bassi. Dei gradoni di Zeman. Parlo dei gradoni del terzonello di San Siro, per chi va a San Siro abitualmente e li conosce. E' una roba da montagna solo. Esatto, sono belli ripidi. Io spendo 30 per Scamacca e i 40 che mi restano gli creo un contorno. Però ovviamente Vlaovic secondo me è molto più forte di Scamacca, molto più incisivo. Credo che Vlaovic alla Fiorentina rispetto a Scamacca avesse e abbia fatto vedere un qualcosa di unico. Cioè uno strapotere fisico, caratteriale, che Scamacca ancora non ha. Fisicamente Scamacca è davvero imponente. Ha una qualità importantissima. Però non lo so. E' una questione di sensazione. Non sto dicendo che... Non so. E' una cosa soggettiva, una sensazione soggettiva. Prima di leggere la domanda di Roberto, ma sono tenuta una parte, tra poco la leggiamo. Bomber Bip ti scrive Scamacca è il classico giocatore italiano che va all'estero e poi torna a casa dopo un anno o due. Il rischio è questo. E' ovvio che c'è questo rischio. Però detto francamente, chi è che non accetterebbe la proposta dell'esterno di questo momento? No, però se torna dovremmo essere coerenti con noi stessi a dire, sì ma uno che fa male in Premier viene in Serie A e domina. Quindi dovremmo poi essere contenti quando torna dalla Premier. Beh, beh, guarda... E' una bella opportunità secondo me per lui. Guarda immobile. No, dico guarda immobile Matteo. Però non è mandato in Premier lui. Non è andato in Premier. Lui ha fatto Gunes e Liga. Eh, non è andato in Premier ma quando è tornato nella comfort zone del nostro campionato, che è un campionato di medio-alto livello, ha fatto la differenza alla Lazio. E la sta facendo tuttora. C'è uno che, oh, sarà non bello da vedere, sarà, diciamo, non attirerà mai le simpatie e gli interessi dei grandi club, però questo è uno che timbra il cartellino 20 volte all'anno da 5 anni. Adesso sto, non ho il numero esatto e non mi ricordo neanche da quanto ormai Immobile fa le fortune della Lazio. E' vero che può essere formativa l'esperienza per Scamacca. Io me lo sarei tenuto volentieri nel campionato. Per esempio, non so, Milan se avesse deciso di fare e di spendere la fisce da 30-40 milioni, non sul trequartista, ma su un attaccante forte. Ecco, Scamacca al Milan. Scamacca o De Ketler? Eh, va bene, mi metti un bivio. Oggi ti dico De Ketler, è chiaro. Però, in prospettiva, diciamo che Scamacca quando tornerà dalla Premier, dopo aver fatto male, può essere un colpo da Milan. Questi i numeri della scorsa stagione. Insomma, tre volte nel Team of the Week, 16 gol in 36 partite. Insomma, dai, è un ragazzo che comunque ha fatto bene quest'anno, non si può negare questo. Perché sia lui che Raspadori hanno fatto veramente un'ottima annata. Vediamo, insomma. Ovvio che gli auguriamo il meglio. Poi, prima, anzi, perdonami Roberto, prima di leggere una tua domanda, volevo far intervenire Michael, cinque minuti poi ti lascio andare, su questo tema qua, che ha twittato anche il nostro Nicolò Schira. Allora, vediamo se riesco proprio a mostrarti. Eccolo qua, sì, il suo tweet. Il Milan sta preparando la prima offerta da sottoporre all'Aston Villa per provare a firmare il giovane talento, e anche qua il nome impronunciabile, Carnay Chukwemeca. Chukwemeca. Chukwemeca, classe 2003. Classi 2003, Matteo, in scadenza l'anno prossimo nell'Aston Villa. Ha un valore di 20 milioni per il club inglese. È chiaro che è una valutazione sproporzionata per tentare di ricavare il più possibile. Si sta scatenando anche qui un'asta internazionale. Il Milan vuole provare ad accelerare i tempi e a sparigliare un po' le carte e a portarselo a casa. Ha una clausola recissoria da circa mezzo milione esercitabile a gennaio per evitare proprio all'Aston Villa di perderlo a zero, perché ha un contratto in scadenza nel 2003. Scusate, nel 2023. Lui è un 2003. Che dire, io prenderei in giro te, i nostri ascoltatori, streamer, come si chiamano quelli che stanno su Twitter? Spettatori, chiamano i spettatori. I nostri spettatori. I nostri spettatori. Se ti dicessi che so che giocatore è, che numeri ha, ovviamente quando è uscito il nome sono andato a informarmi. Ho letto dei titoli che mi sono sembrati un attimo azzardati, un po' Bellingham, un po' Pogba, calma. Però è un nome da Milan. Perché dico che è un nome da Milan? Perché può essere un Tomori, un Salemakers, un colpo che non ti aspetti alla Milan. È chiaramente un interesse dettato da... C'è fiducia ovviamente in Maldini e Massara, dopo gli ultimi due anni, quindi ovvio che... Ma qua non sono tanto Maldini e Massara. Qui dobbiamo andare nel reparto Moncada e compagnia. Coloro i quali poi fanno un lavoro di scout molto, molto, molto accurato. E quindi, sì, da questo punto di vista c'è da fidarsi. Hai detto bene. È chiaro che oggi io che guardo il Milan e che leggo di questo giocatore, il mio sentimento, il mio percepito, sia diverso, in positivo, perché è condizionato dalle esperienze precedenti. A Tomori nessuno dava due lire, a Salemakers nessuno dava due lire. Non che adesso Salemakers sia un fenomeno, ma ha dato il suo contributo a uno scudetto. E non solo loro, lo stesso Mignan. Tu l'hai pagato 15 milioni l'anno scorso, oggi ne vale 60 e l'hai preso che nessuno lo conosceva. Hai dato fiducia a Tonali, hai preso Teo Hernandez che sbagliava i palleggi in Spagna, hai preso Ben Nasser dopo essere retrocesso dall'Empoli. Insomma, il Milan ha abituato a dei colpi che si portano dietro tanta indifferenza, se non qualche critica, e poi puntualmente ha ragione il Milan. Non è sempre Natale, quindi non tutti sono Tomori, non tutti sono Ben Nasserre, non tutti sono Salemakers. Però oggi criticare a priori o prendere in giro a priori non va bene. Dico prendere in giro perché ovviamente il cognome si presta a qualche presa in giro, ma ritengo che possa essere un elemento magari interessante. Qualcuno mi prendeva in giro perché utilizzavo troppo le heatmap di Sofascore, invece vedo che qualcuno le ha apprezzate. Grazie per avermi fatto scoprire Sofascore e le heatmap. Scusate, ma volete mettere? Posso, eh Matteo? Ma questo è il campetto di cui abbiamo bisogno e che ci piace. Così le dovremmo fare, capito? Sono venuto a salutarla perché il 13 agosto è vicino e tra l'altro sono venuto a controllare che ci siano le pedine rosse perché io capisco che qua venga sempre... Ma scusate un attimo, le pedine rosse sono fondamentali. Adesso ho chiesto e chiederò al direttore per favore di fare, magari con l'uniposca o con lo sbianchetto, di fare le pedine bianco-rosse. Perché ragazzi, è fondamentale anche a livello di immagine dare al club di Silvio Berlusconi e Adriano Gagliani quello che merita. Matteo, dimmi se stai... Arriverai col kit di Subuteo, capito? Col kit di Subuteo, con le squadre appena comprate. Poi, ultimo messaggio, dai, te lo leggo al volo, voglio un tuo commento su questo giocatore. Tutti parlano di grandi nomi per il Milan, cioè sottovaluta Adli, che a mio avviso è un bel giocatore. Sì, sicuramente una bella persona. Ho avuto modo di... Almeno per quello che abbiamo percepito dalla conferenza stampa di presentazione, no? Ci sono dei calciatori che hanno anche un extracampo di cui parlano e che ti fanno pensare a uno con la testa sulle spalle. Oggi è una qualità anche quella da valutare, da tenere in considerazione. Poi è chiaro che l'interesse si ponga sul campo. L'ho visto dal vivo imballato, la prima scambata contro la formazione dell'Emile Almenno. E poi, nelle ultime due amichevoli, adesso in Ungheria, è entrato nel secondo tempo e ha fatto veramente una grande, grande, grande partita. Così come l'aveva fatta in precedenza contro il Monaco. Devo dire che sta facendo vedere grandi cose. Pioli ci sta indicando la via per questo giocatore, ovvero un giocatore un po' una sorta di tuttocampista. nei tre dietro, ma con una grande propensione difensiva, nel senso che viene a dare una mano. È lui che sa prendere il pallone e condurre un'azione. E quindi mi è piaciuto molto, anche per la personalità. Insomma, è uno che ha subito un fallo e è andato a pretendere rispetto dall'avversario. Ora, non è che siamo qui a incentivare il nervosismo in campo con le risse, però ti fa capire che è uno anche di personalità. In un gruppo giovane come è il Milan, è giusto che anche i giovani prendano, acquisiscano personalità, perché può essere un'arma fondamentale, soprattutto per dribblare due questioni molto importanti. La prima è la pressione che un club come il Milan si porta sempre dietro e la seconda è l'indifferenza o comunque l'indecisione di chi sta a commentare il Milan. Oggi del Milan si tende già a sottovalutare per quello che è il mercato scarno che si sta facendo. Io per primo sono ad oggi dell'idea che il mercato del Milan sia insufficiente, ma l'insufficienza sul mercato non per forza voglia dire che il Milan sia uscito dai ranghi delle pretendenti allo scudetto perché, e Matteo lo sa, la pensiamo allo stesso modo, il Milan ha avuto e ha delle qualità che sono uniche, uniche. Le possono avere tutti, sono un po' diciamo in stile Atalanta, un'identità di gioco ben precisa, ben nota, una forza di squadra, un'unione nel collettivo, davvero non dimentichiamoci che il Milan ha fatto fronte a una spaccatura societaria ai tempi di Rangnick vincendo tutte le partite, ha fatto fronte a un'emergenza infortuni quasi continua, ha fatto fronte a un'altra emergenza o comunque spaccatura societaria perché Maldini il 27 maggio ci fa capire che ha vissuto con Gazzidis da separato in casa per tutta questa stagione. Insomma, oggi c'è poco da dire al Milan e quindi già il fatto che, fatta eccezione perché sì che è tanta roba, ma 10 indicesimi della scorsa formazione sia ancora al Milan, secondo me è già un buon punto di partenza. Michael, ti ringraziamo, ti salutiamo, ci ritroviamo prestissimo. Penso ci sarai a riunione di redazione, giusto? Ci vediamo in riunione, vado in studio nell'altro studio. Perfetto, grazie. Ciao, a dopo. Ciao.